Ciao amici, nuova recensione, vi parlo oggi del Topolino 3483 con questa splendida, bellissima copertina di Ivan Bigarella che ritrai il mio papero preferito, finalmente con una storia, ovvero Cornelius Cut. Guardiamolo meglio insieme. Il mio orologio non mente, oggi è lunedì 22 agosto, anche se per voi il video uscirà da mercoledì 24 in poi ed è la prima volta in tanti anni di abbonato che mi arriva al fumetto ben due giorni d'anticipo rispetto a mercoledì, ovvero appunto di lunedì, incredibilmente, tra l'altro pure per una buffa coincidenza che io in teoria domani parto e quindi non avrei potuto fare il video. In qualche modo il postino mi ha letto nel pensiero e me l'ha portato prima. Ripeto, bellissima copertina, per chi non lo sapesse Cornelius Cut è il mio papero preferito, non c'è una spiegazione precisa legata a qualche storia o apparizione particolare, lo è perché è il fondatore di Paperopoli e lo è anche perché è un personaggio che mi ha sempre affascinato e ho sempre chiesto da tanto tempo, in maniera invana, fino ad oggi, di avere una sua storia del passato, una storia con lui protagonista e questo accade, finalmente, grazie all'idea di Alex Bertani che non penso mi abbia ascoltato ma sicuramente mi ha reso molto contento. Ovviamente la copertina è un po' ingannevole perché se non si aspetta il rapporto tra Paperini, Nipotini e Cornelius Cut, ciò non può essere, ovviamente, anche per motivi di ere, di secoli passati da un personaggio e l'altro, però è davvero molto bella, mi piace molto l'idea di mettere sullo sfondo Cornelius Cut come a indicare il passato e in primo piano Paperini e Nipotini a indicare il presente e la modernità. Ricordiamoci fra due settimane che uscirà, anzi settimana prossima in teoria, il topolino dedicato col topolibro Roberto Bolle e la danza che io comprerò sicuramente, così come ogni topolibro che ormai continua a uscire in perterrito avanti con questa serie, non so se avrà mai una fine, io comunque continuerò a comprarlo perché ci credo, è quel tipo di fumetto cartonato, secondo me molto bello per quanto tematico e per quanto ristampato, ma a me piace da sempre. La nostalgia dell'amaca un po' aiuta a rientrare alle vacanze, eh sì cari amici, io in realtà in questo momento sono ancora in vacanza, sono a Cogno in Val d'Aosta, ma purtroppo mi rindo anche conto che ormai l'estate sta finendo e con essa le vacanze che si porta via. Piccolo editoriale non di Alex Bertani, ma dall'ufficio marketing, è la prima volta che compaiono i ragazzi Daniela, Vittorio, Enrico e Simona, che saluto e ringrazio per il loro lavoro estenuante che realizzano, sono loro che portano avanti, approvano e realizzano, hanno questo sbrio creativo dei vari gadget che vediamo. Possiamo anche notare per la prima volta dal vivo, seppure in una foto, gli scacchi che sicuramente saranno protagonisti del prossimo mese sul topolino e anche i notebook che usciranno a settembre con l'inizio della scuola, che io non prenderò a meno che mi venga regalato la mia mamma, come potrebbe accadere, ma in realtà non ho nessuna intenzione. Sicuramente è molto utile per chi il notebook lo usa, io non lo utilizzo, lo chiamo notebook, in realtà è block notice, non utilizzandolo mi sembra poco funzionale tenendolo sigillato, a meno che sia un collezionista e allora ha senso prenderlo, ma onestamente io non lo prenderò molto probabilmente. L'EGM è il bislacco coacervo faunistico, secondo nonché ultimo episodio, invece dallo spazio, secondo nonché assolutamente ultimo episodio, da quello che ho letto dovrebbe andare avanti fino alla quarta o addirittura quinta parte, di Paperone e la caccia al tesoro gastronomica, e poi Cornelio Scutte con la sua storia, l'esilio dei Van Coutte di Sisti Bigarella. Cominciamo con la prima storia che è il proseguo di quella precedente sullo scorso numero, che devo dire che se non fosse per un elemento finale, che però non voglio fare spoiler, è una storia apparentemente un po' inutile, o comunque che rientra nella massa delle storie dell'EGM già letta. Con questa storia ovviamente si capisce che Newton, con il suo holofauno proiettore, ad aver creato questo disagio, questo tra l'altro è un marchigegno, anche molto portatile, molto piccolo, i vola via, e quindi la storia si incentra per una gran parte di essa, delle pagine presenti, a ricercare questo strumento. Solo che bisogna stare attenti, perché basta cliccarlo, basta che lo si utilizzi in maniera errata, lo si abusi per creare dei danni. Ripeto, c'è un elemento fondamentale interessante, secondo me un po' forzato, si poteva evitare di mettere, ma che comunque rende questa storia in qualche modo sensata. Non vi dico altro, perché il rischio spoiler è piuttosto elevato. E passiamo a Minaccia dallo spazio, secondo episodio di Vacca e Casti. Casti che non è mai la prima volta, ma è la seconda, che lo vediamo all'opera con i paperi, in maniera sempre più predominante. Abbiamo sempre più paperi, non solo Archimede e Paperino, ma abbiamo anche Amelia, con le sue amiche, nemiche, streghe, che abbiamo già visto più o meno l'anno scorso o quest'anno all'inizio del 2022, nel suo proprio sul Topolino. Io però non ricordo i nomi, sono tante, peccato, perché secondo me per avere una giusta impressione sulle varie streghe sarebbe interessante capire come si chiamano. Io però non me lo ricordo e non c'è nessuna storia, a parte quella famosa in cui compaiono, che si caratterizzano un po', per cui i nomi non li so. Però non vengono neanche citate tra l'altro, quindi le chiamiamo le amiche streghe di Amelia, che dovrebbero essere sei o sette. E non solo loro, tra l'altro compaiono anche Pico de Papelis, mi pare Paperoga, Nonna Papera, Ciccio, e ve li faccio vedere perché è un evento particolare, le giovani marmotte, il gran mogol, e vederle, anche Cor di Pietra, vederle sulle tracce di Casti è comunque qualcosa di estremamente particolare. Le tavole le le lascio vedere tutte, cercavo anche Nonna Papera, eccola qui, abbiamo anche Zapoteche Marlin, Anacleto mitraglia, Pico de Papelis appunto. La storia in realtà dura poco e forse è per questo che dura un po' di più rispetto alle aspettative, dura circa 18 pagine, sicuramente è anche un po' per questo, per allungare un po' il brodo, allungare la storia, e va avanti questa ricerca disperata per riuscire a eliminare o ridurre il pericolo, sventare la minaccia del pianeta Ramingo, pianeta che Pippo nella scorsa parte, anzi in realtà due parti fa, con il prologo, mettiamola così, di quella storia, riuscì a vedere per la prima volta che però non l'avesse mai visto perché è un problema che diventa sempre più insistente per il nostro pianeta Terra. Se volete un commento su cosa ne penso di Casti e Paperi, davvero un'ottima impressione. Pensavo peggio, anche perché sono sincero, non l'avevo mai visto e potrebbe anche essere stato che non mi sarebbe piaciuto, insomma, invece tutto sommato molto bello, ovviamente Casti dà il massimo sui topi, ma forse perché siamo abituati così. Quindi aspettiamo di leggere le prossime parti per capire come va a finire. Interessante l'editoriale a metà albo, con l'universo, il telescopio, specchi, scudi, infinito, galassie, interessante pure questo, con il titolo di Stefan, che dovrebbero essere le cinque galassie vicine, sembrano vicine, in realtà non parliamo di chilometri, ma parliamo di anni luce, di distanza, di cui in una di esse c'è anche il pianeta Terra. Ovviamente è un puntino. È davvero affascinante pensare che noi pensiamo di essere in un pianeta sconfinato, ma immaginiamoci la galassia, l'universo, ecco, vabbè, qualcosa che chissà se io vedrò mai, in qualche modo, sempre più nitidamente con le nuove tecnologie. Non so manco se lo vedranno mai i miei nipoti a livello anagrafico. Quindi davvero interessanti, fanno molto sognare queste immagini, anche se sembrano quasi finte e in realtà davvero esistono. Divo Perone è la caccia al tesoro gastronomica, storia di Jaco Seppala e di Rodriguez, storia di questo autore finlandese classe 77 dalla penna super prolifica che ha pubblicato più di 200 storie per la Disney Egmont, direi. La storia è carina, mi è piaciuto anche il disegno di questo Rodriguez, poi il colore appunto è della Egmont, viene così segnato dall'indice, in cui lo zio deve andare a ricercare un piatto che aveva assaggiato molto tempo prima e che vorrebbe riassaggiare per far sì di riprovarlo quante volte vuole, insomma, per simularne la ricetta. E quindi va un po' in giro per il mondo, a partire dalla Francia, quindi iconica la Torre di Pisa che fin da subito compare, oppure alla Corugna vedendo qualche tipico luogo spagnolo o ancora la Torre di Pisa, arrivando in Italia, bellissima questa tavola, stupenda, questo disegnatore Rodriguez è fantastico e lo è a maggior ragione anche per il dettaglio che inserisce in ogni vignetta, seppur molto piccola, ecco, purtroppo questa storia sarebbe bella da ammirare in un momento più grande, ma ovviamente non c'è la possibilità perché è l'unica che conosciamo di questo autore, poi non so quanti ne abbia disegnate di altre, ma c'è una tavola, ovvero non questa ma la prossima, che è spettacolare, eccola qui, una splash page che anche se fosse spoiler, mi perdonerete, è bellissima, in pratica lo zio viaggia per il mondo ecco per cercare il piatto che gli ricordava appunto quel dolce momento, piccola critica da italiano, io non penso che l'Italia sia conosciuta solo per il tartufo e per il risotto, ma per ben tantissimi altri piatti conici, penso a Genova dove abito più o meno al pesto, però vabbè, mi rendo pure conto che il punto di vista di un finlandese sia dell'Italia, tartufo e risotto, la pizza per esempio potevano inserire probabilmente, comunque, davvero molto bella anche culturalmente interessante, perché ogni luogo più o meno ha una serie di alimenti o di bevande che rendono iconici ogni stato, bella, bella storia, mi è piaciuta forse probabilmente la migliore anche per lunghezza, che assolutamente siamo abituati a leggere più corte di questa finestra sull'estero, chiamiamola così come la definisce Bertani e la redazione, la migliore che abbia letto da quando vengono rilasciate questo tipo di storia. A spasso con Dumbo, interessante pure questo editoriale in Botswana, qui siamo su Pesaterra, chissà se avrò mai la possibilità di vedere questo particolare animale gigante che per me eccolo solamente visto neanche allo zoo ma solo in immagini e in disegni e poi finalmente arriviamo con la grandissima lunghissima storia di Cornelio Scut, siamo a pagina 89 e fino alla fine dell'albo quindi indicativamente a pagina 151 e più avremo solo questa storia. Per me onestamente sarebbe stato più bello leggere questa storia divisa in due parti ma in maniera anche sul fumetto quindi in questo fumetto la prima nel prossimo la seconda. In realtà è una tendenza sempre più predominante quella di lasciare forse anche per in qualche modo convincere e accontentare quei lettori che preferiscono leggere e finire le storie un po' come se fossero da iniziare e finire subito insomma le classiche storie del fumetto però io preferisco da collezionista poi da amante del dopo capriori leggerei tutti che venisse separata anche per dare un po' di respiro ho onestamente avuto fatica a leggere tutta di fila non sono abituato a leggere 50 pagine 60 praticamente pagine di storia collegata l'un con l'altra la storia è complessa perché riguarda questo personaggio Cornelio Scutte che lo ripeto è il mio personaggio papero preferito che ci crediate o meno un personaggio ultra secondario quasi mai menzionato se non indirettamente ovunque perché è Paperopoli lui l'ha fondata ma che in realtà è stato pochissimo analizzato se non da Barks e Don Rosa da autori esteri io non ho mai letto una storia dedicata a Cornelio Svancutte e per la prima volta abbiamo modo di leggere tra l'altro l'ho scoperto non lo sapevo che il suo nome è Cornelius Hermogene o Hermogene Vancutte disegno molto bello di Bambigarella mi piace inizialmente sono sincero sorgevo un po' il naso poi il disegno in realtà è carino è un po' al limite come storia perché non c'è nessun riferimento a Paperino a Topolino a Pippo Paperinic Paperina Archimede insomma quei personaggi che i bambini ma anche noi lettori conosciamo per cui è un azzardo interessante hanno avuto coraggio Bertani e direi Sisti insieme a Bigarella perché sono riusciti a creare una storia quasi come se non fosse adatta per il Topolino perché non ha nessun personaggio nessun contesto neanche un riferimento a Paperopoli o a Topolinia quindi davvero interessante l'ho apprezzata e la storia finalmente posso dire narra di Cornelius Van Coutte nella sua adolescenza in una sua storia forse nel suo tratto di vita più importante quella in cui è dovuto affrontare un po' la separazione ma anche la conoscenza di relazione con Zio Martin e un certo Geroen Zio Martin è un po' protagonista di questa storia perché a quanto pare qualcuno lo sta cercando non si sa bene per quale motivo verrà ovviamente spiegato ma Cornelius Van Coutte ovviamente è un ragazzino non si capisce quanti anni abbia ma ipotizziamo una ventina venticinque che del mondo non è che ne sappia tanto ricordiamoci anche che il contesto siamo a New York nel 1804 quindi sicuramente è anche un contesto molto primitivo molto diverso rispetto a quello che conosciamo di Paperopoli o Topolinia di fatto quelle due città ancora non esistevano non vi dico altro se non comunque un applauso a Bigarella per i suoi disegni che mi sono piaciuti anche banalmente in questa tavola così di chiaro scuro un po' abbozzata sembrerebbe ma in realtà complessa e molto bella da vedere agli occhi per me merita merita perché sono di parte Cornelius Scute è un personaggio che non vedevo l'ora di leggere una sua storia avevo paura di poterla leggere una storia sua appunto banale che possa essere poco seria magari in cui si fa riferimento in maniera anche differente in contesti differenti a lui come fondatore senza proprio prenderlo in causa in realtà finalmente ecco lo voglio ribadire perché è la prima volta che accade che io sappia una storia con lui protagonista e solo lui lui da giovane lui che ancora doveva creare Paperopoli lui che ancora era a New York e che mai ci sarebbe aspettato di fondare una città fantastica la storia comunque ripeto è complessa perché bisogna un po' immergersi immedesimarsi nel contesto che può essere un po' ostico non c'entra nulla con Paperino o Topolino per cui forse il bambino il ragazzino di 10-15 anni secondo me potrebbe avere difficoltà se non ha un po' di malizia nella lettura secondo me se non ha un po' di creatività nell'immergersi io che sono un lettore decennale e come me tantissimi altri anche più non abbiamo avuto problemi secondo me il bambino forse un po' di più perché si ritrova in un universo totalmente diverso ecco da quelli che leggiamo solitamente con protagonisti Topolino oppure Paperino Paperinic Fantomius insomma è davvero una storia al limite secondo me ma molto molto coraggiosa e che ho avuto il piacere di leggere grazie Bertani grazie Sisti e Bigarella e poi abbiamo ovviamente i soliti disegni e ringraziamenti dei bambini vorrei sapere una loro opinione onestamente riguardo all'ultima storia perché comunque Cornelius Van Cout per i bambini non è un personaggio conosciuto assolutamente però ci sta anche ogni tanto ci sono delle storie che magari parlano più a lettori un pochino più di nicchia o un pochino più esperti oppure che da un po' di tempo aspettavano tali storie belli bellissimi disegni soprattutto questo qua di Gianmarco di 13 anni con questa colorazione molto particolare e poi vediamo cosa esce in edicola questa settimana o meglio in realtà a fine mese alla fine ovvero fumetti che prenderò a parte la storia su Fantomius che è una deluxe che evito perché non ho interesse Papirino Gemma Almanacco lo prenderò quando usciranno ricordiamo ancora il topolibro che comprerò e poi ancora l'indice del prossimo numero con questa bellissima ancora cover di non si sa comunque molto bella continuerà con questo episodio di Mestri Dallo Spazio poi ancora una storia su Newton una sul papero finessa del mondo e poi questa storia sui pirati di Tangheria che chissà anche qui sembrerebbe una storia decontestualizzata che probabilmente si è voluta anche qua inserire in due episodi appunto separati ma nello stesso albo termina Gagnore e Franzò con Rocker da protagonisti tra l'altro io devo ancora acquistare questo albo di Gothre non so cosa stia aspettando a farlo in realtà non quello arancione ma quello giallo che dovrebbe essere già uscito ma diciamo che 35 euro ogni volta ecco devono uscire non è così facile comunque devo prenderlo lo so un albo che comunque solo per la storia di Cornelio Scut io promuovo ad ampissimi voti secondo me dividerà un po' il lettore perché c'è chi non se lo aspetta e c'è chi lo sperava io ero e sono nella seconda categoria non mi aspetto altre storie nel futuro prossimo ma è comunque piacevole invece dallo spazio boh diciamo che il fatto che sia così corta la parte mi ha mi ha molto coinvolto sì ma è iniziata e è finita in un attimo quindi non ho avuto grandi opinioni sulla storia sulle GM a parte quell'elemento che non spoilerò il resto è una storia un pochino anonima ecco questo è il termine giusto e la storia sullo zio invece secondo me è la storia che più ho preferito a livello grafico per quest'oggi ovvero lo zio e la caccia tesoro gastronomica di Seppala e grandissimo Rodriguez per oggi comunque è tutto questo era l'albo e alla prossima ciao ciao grazie a tutti